Sì, in realtà questa iniziativa è stata pensata da un gruppo di amici attorno a Daniele Molaschi qui a Fano. Lui ha coinvolto alcune delle associazioni presenti sul territorio, in particolare Scienza e Vita, il Movimento per la Vita di Fano, l'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e il Comitato Difendiamo i Nostri Figli. Abbiamo scelto di trattare questo tema con un titolo un po' provocatorio, che cosa ci sta succedendo, perché in tema di questioni legate al fine vita era in ballo la decisione della Suprema Corte, della Corte Costituzionale, che è arrivata puntualmente il 25 settembre. Di fronte a questa decisione che ha di fatto depenalizzato il reato di aiuto al suicidio, attenderemo di leggere le motivazioni della sentenza, ma questo è nel comunicato stampa, ci sentiamo interrogati per dire ma dove è finita la solidarietà nei confronti delle persone più fragili, nelle confronti delle persone che hanno più difficoltà e proprio nel momento di maggior difficoltà vengono eventualmente accompagnate e spinte quasi alla decisione finale. Crediamo che sia necessario riaffermare il diritto alla vita di tutti, ma anche il dovere di proteggere la vita, anche quella vita più fragile e più indifesa. Alla Chiesa del Suffragio, venerdì 4 ottobre alle 18, saranno presenti i rappresentanti delle associazioni che ho detto ed in particolare ci saranno il dottor Giacomo Rocchi, magistrato, che tra l'altro ha scritto un libro su questo argomento, Licenza di uccidere, ci sarà la dottoressa Ruggeri, che è un chirurgo dei trapianti dell'Università Policlinico di Siena, ci sarà la dottoressa Germana Severini, che è un medico palliativista della Fondazione Ant e opera nel territorio pesarese, e ci sarà Don Daniele Federici, che è professore di Storia della Chiesa all'Istituto Teologico Marchigiano, che ci permetterà anche di inquadrare in quale contesto storico-culturale avvengono queste decisioni. Ci saranno poi delle testimonianze di persone, come dire, direttamente che vivono sulla loro carne questa difficoltà, la mamma di una bambina che ha una gravissima disabilità e una famiglia che racconterà l'accoglienza attraverso la comunità Papa Giovanni.